Chiudete tutto, finire la serie e basta, se ne vanno tutti, se ne vanno pure loro, è veramente finita qua. Ciao, sono Valerio Novara. Anche il finale di Marefuori 4 ci ha lasciato con un mucchio di domande, quindi se avete finito di vedere la serie su RaiPlay, in questo video cercheremo di fare un attimo il punto sul finale di Marefuori 4, rispondendo alle domande che sono rimaste in sospeso alla fine dell'ultima puntata, cercando di dare delle anticipazioni che riguardano la quinta stagione. Ricordiamo che la produzione ha già previsto di fare la quinta e la sesta stagione, quindi ci aspettiamo che succedano tantissime altre cose nelle prossime puntate. La quarta stagione di Marefuori, ricordiamo, è disponibile dal 1 febbraio su RaiPlay, erano uscite le prime sei puntate, poi dal 14 febbraio da San Valentino sono uscite le altre puntate, sono 14 puntate totali e su Rai2 ogni mercoledì vanno in onda, in chiaro, due puntate in prima serata. Allora, il finale di Marefuori 4, anche stavolta ci lascia il regista con dei cliffhanger, cioè con delle situazioni in sospeso che dobbiamo cercare di capire e inquadrare in vista della stagione successiva. Partiamo da Edoardo, anche stavolta il suo destino rimane in sospeso. Allora, lui aveva lasciato Teresa con una lettera e in questa lettera che aveva nascosto dietro una fotografia c'era scritta una parte della canzone scritta proprio da Matteo Paolillo che si sente in sottofondo durante quella scena e che si intitola Nata Poesia. Come un animale in petto tu non puoi capire, non mi dire così perché non è colpa mia, se io sono nato per fare la guerra, se una tigre o una gazzella non possono volersi bene, non è colpa mia. Questo è il testo innanzitutto della lettera, stratto della lettera che Edoardo lascia a Teresa prima di lasciarla, anche perché poi lui si rende conto di dover prendere in mano le redini della famiglia Ricci e del clan dei Ricci, dopo che sono morti Ciro Ricci nella prima stagione e Don Salvatore Ricci in questa stagione qui. Poi vediamo sempre Edoardo in una delle ultimissime scene di Mare fuori quattro che si reca al cimitero insieme ad altre persone. Edoardo punta al tesoro della famiglia Ricci che sarebbe nascosto sotto la tomba di Don Salvatore Ricci al cimitero. Quindi Edoardo si reca al cimitero ma scopre che la tomba è già stata scopertiata da qualcun altro, vede delle banconote sul fondo, entra dentro la tomba e lì qualcuno lo colpisce dietro alla testa, lui cade per terra, il tempo di vedere il suo aguzzino che richiude la tomba sopra Edoardo, sanguinante, quindi lo lasciamo per terra morente e chissà se Edoardo lo ritroveremo nella prossima stagione. Prima di cercare di capire chi ha colpito Edoardo, facciamo un passo indietro per rimettere insieme i pezzi di chi era al cimitero nell'ultima puntata di Mare fuori. Sicuramente ci sono Micciarella e Cucciolo, i due fratelli si fanno accompagnare al cimitero dalla madre che dice di aver ormai passato la sua dipendenza, la sua tossicodipendenza, dice a entrambi di volergli bene, li accompagna al cimitero, loro le dicono dobbiamo andare a trovare un nostro amico scomparso, vogliamo andarlo a trovare al cimitero e a dargli l'ultimo saluto, lei li accompagna al cimitero e con questa scusa Cucciolo e Micciarella si ritrovano anche loro al cimitero. E l'ultima scena in cui li vediamo, li vediamo scendere dall'auto e ricarsi dentro il cimitero. Micciarella in sogno aveva scoperto che c'era questo tesoro della famiglia Ricci, questi soldi nascosti proprio sotto la tomba dei Ricci. Ecco perché si fa accompagnare insieme al fratello al cimitero per andare a recuperare questi soldi sotto la tomba della famiglia Ricci. Improbabile ma possibile che sia stato Micciarella o Cucciolo a colpire Edoardo alla fine di Mare fuori quattro. È una delle possibili teorie, anche se ci sembra quella meno probabile. D'altronde Micciarella è reduce dall'omicidio dell'avvocato con cui non riesce a convivere, se lo trova in sogno, fa degli incubi, quindi ci sembra difficile che Micciarella uccida di nuovo anche se Edoardo non è morto, quindi ci può stare che siano stati Micciarella o Cucciolo a colpire Edoardo e a portarsi via i soldi prima di lui. Passiamo a Rosa e Carmine, anche qui un matrimonio per Carmine, poveraccio, veramente sfigato questo ragazzo, un matrimonio rovinato in cui stavolta la sposa, che è Rosa Ricci, non si presenta all'altare. Ricordiamo che il primo matrimonio di Carmine in Mare fuori purtroppo era andato a finire male perché la moglie, quella che è la madre di Futura, era morta fuori dalla chiesa. In questo caso noi vediamo arrivare Rosa Ricci su un'auto vestita da sposa, pronta a dire sì al suo Carmine e siamo tutti felici e speriamo che stavolta le cose possano andare bene, per entrambi si prospetta un futuro con un'altra vita, un'altra identità, con la bimba da un'altra parte, lontani dai clan e dalla malavita di Napoli. In realtà Rosa Ricci poco prima del matrimonio scopre dalla madre che a uccidere suo padre Don Salvatore era stato Edoardo Conte e questo fa scaturire in lei una serie di emozioni contrastanti e con le lacrime agli occhi fa capire con lo sguardo a Carmine, c'è questo incrocio di sguardi in cui i due si dicono tutto e quindi si manifestano tutto il loro amore, ma Rosa fa capire a Carmine il quale accetta la decisione della propria fidanzata, fa capire che non è ancora tempo di allontanarsi da Napoli e di scegliere una nuova vita perché lei deve chiarire le cose e vendicarsi della morte del padre e quindi è evidente che Rosa quando la vediamo tornare nella macchina e andarsene dalla chiesa, poi la vediamo nel cimitero e calpestare il bouquet e recarsi anche lei alla tomba dei Ricci. Quindi è possibile che sia stata Rosa Ricci a colpire Edoardo, ci può stare, è una delle opzioni più probabili anche se finora la produzione ci ha abituato a colpi di scena ed è la soluzione più ovvia e più banale se vogliamo, quindi anche quella che probabilmente non sarà. Ma andiamo alle anticipazioni della quinta stagione, ci sono delle notizie contrastanti che arrivano dai siti, dai quotidiani e dalle teorie dei fan che non ci piacciono perché secondo la maggior parte delle testate mancherà un personaggio importante e gli indizi fanno presagire che sarà proprio Carmine a non esserci nelle prossime stagioni. Massimiliano Cagliazzo, l'attore che interpreta Carmine di salvo, probabilmente non farà parte del cast della quinta e della sesta stagione anche se sono tutte supposizioni e a rafforzare queste supposizioni però c'è il fatto che la storia di Carmine si è un po' chiusa con questa quarta stagione, l'attore ha detto tutto quello che doveva dire, il suo personaggio ha concluso una parte importante di Marefuori, anche se fa strano e potrebbe essere rischioso che la produzione rinunci ad un personaggio del suo calibro dopo aver perso attori del calibro di Filippo Ghiattillo, Nadizza, che comunque erano dei pezzi forti, dei pezzi da novanta della serie. Si parla anche di un probabile addio di Edoardo Conte, quindi di Matteo Paolillo, il cantante della sigla, ma è evidente che questa teoria io personalmente non ci credo, anche perché rinunciare a Edoardo e a Carmine chiudete tutto, finire la serie e basta, se ne vanno tutti, se ne vanno pure loro, è veramente finita qua, già sta peggiorando perché è ovvio e fisiologico che dopo quattro stagioni comunque non è più la notizia, la serie originale, è ovvio che cali un po', e ci sono stati tanti commenti negativi, ne parlavamo anche in un video precedente dei fan, però è normale che ci sia un po' da andare a calare, ma rinunciare a due personaggi di questo calibro sarebbe davvero troppo, quindi occhio Rai, perché così rischiate le fa una brutta fine. Ma andiamo proprio alla conclusione di questo video, non posso non parlarvi di Ciro Ricci, perché su Instagram Giacomo Giorgio, che ci sta a farvelenare, ha pubblicato un video insieme a Ivan Silvestrini che è il regista di Mare fuori e che lascerà la serie al termine di questa quarta stagione, quindi non ci sarà più lui, era entrato metà della seconda stagione se non sbaglio, ha fatto un ottimo lavoro Ivan Silvestrini e ha voluto salutare i fan con queste due puntate in più rispetto alle dodici che ci aspettavamo. Giacomo Giorgio a un certo punto ha pubblicato un video in cui si vede Ciro, quindi lui che esce da questa tomba di famiglia, con scritto Vivo o morto io ci sto sempre. Che significa? Secondo i fan, udite udite, a colpire Edoardo Conte alla fine di Mare fuori quattro sarebbe stato Ciro. Vivo o morto non lo sappiamo, ma se fosse stato Ciro e che quindi non è morto alla fine della prima stagione ci aveva lasciato con tanti dubbi quella morte, se ben ricordate, colpito all'altezza dei Reni, diciamo sì, un colpo molto forte, ma non al cuore o alla testa. C'era sembrata molto strana la morte di Ciro Ricci, però per tutte queste stagioni non l'abbiamo rivisto Vivo, abbiamo visto dei flashback che ci hanno anche raccontato la parte più umana di Ciro Ricci rispetto a quella che avevamo visto nelle prime due, nella prima stagione. Quindi c'è la possibilità che Ciro Ricci sia ancora vivo e che sia stato proprio lui a colpire Edoardo, quindi a riprendersi il bottino della sua famiglia e chissà se non faranno rivivere Ciro Ricci, anche se diciamo sarebbe poco verosimile come situazione dopo tutte queste puntate in cui tutti l'abbiamo creduto morto. Fatemi sapere però voi cosa ne pensate e cosa vi aspettate dalle prossime stagioni. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, check e azione, attivate la campanellina per restare sempre aggiornati su tutti i video che riguardano Marefuori e non solo, seguiteci su Facebook, Instagram e TikTok per restare aggiornati su tutto quello che riguarda il cinema e le serie TV. Al prossimo video!